Grande battuta di Stankovic, ma grande risposta di Marr, palla al centro per Piano che la liscia può difendere Stada Masorra, ancora Petric, Ishikawa, prova a metterci un bugger, ce la fa! Salvataggio di Sbertoli, free ball per Modena, l'appoggio di Lavia, palla dietro per Eliane, mamma mia! Sopra, nei sei metri! Non c'è niente da fare, time out immediato di Roberto Piazza che vuole spiegare i suoi come si marca Eliane e Stada Masorra. Credo inconsapevole del fatto che Eliane Stada Masorra al massimo si marca da solo, ma tu non lo marchi. Dice a Bossi che l'errore in precedenza nella costruzione dell'attacco di primo tempo era suo, nel frattempo Daniele Lavia salta ancora una volta in ricezione, fa un miracolo per tenerla viva Mazzorra, free ball per Milano addirittura per il più otto, Ishikawa difeso da Eliane, bugger rovesciato da parte di Petric, Lavia, la palla contenuta, Sbertoli la gioca dopo il tocco in difesa di Marr che prova ad attaccare, addirittura Eliane che copre Petric in difesa, Lavia sulle mani alte! Che punto della difesa del pazzo cubano! Con la maglia numero due, tripla difesa di Luis Eliane e Stada Masorra. A momenti riusciva ad avere più difese a tabellino che cognomi in questa azione. E poi va ad arringare la folla sotto la curva. Poteva essere un raro passo falso per Ishikawa, flottante da parte di Mosca, tenuta, mamma mia! Parallela di Eliane e Stada Masorra, da posto due, nei tre metri, senza nessuna difficoltà e secondo me senza nessuna coscienza della difficoltà. Passami questo termine. Assolutamente! Battuta a salto flott di Stankovic, strana, ma strana anche la ricezione di Marr, la palletta di Shikawa, la difesa di Christensen, Lavia per Estrada Masorra. Ormai un uomo solo del comando, mamma mia! Diagonale stretto nel mezzo centimetro di Eliane e Stada Masorra, dove l'ha tirata? Se l'hai vista arrivare in faccia Sbertoli, che se la prende con Cosa Mernic e gli dice scusa ma me lo puoi chiudere un attimo il muro? Perché se no questo mi tira via la testa e forse anche un pezzo di collo. Tocca adesso a Eliane e Stada Masorra, che ha dato una grande ventata d'energia alla formazione giallo-blu. Al di là anche dei dieci punti segnati, tira molto forte, Pesaresi tiene a filo, palla per la pipe di Marr, difende Eliane, con posizionamento perfetto! E poi spacca il pallone, tutti in piedi, tutti in piedi, 5-3, Luis, Eliane e Stada Masorra. Battuta alla dinamite, grande lavoro in difesa e grande botta in attacco, 5-3. Incredibile, io non so quanto Eliane sia consapevole di queste giocate. Nema Petric al servizio, tira fortissimo Marr, si oppone col corpo praticamente Ishikawa, ancora pallonetto, ancora Eliane, Christelson per la via, paleggio di là non se la siete di attaccare. Marr in pipe diretta, il muro di Mazzone, la copertura di Sbertoli, Pesaresi per Ishikawa contro il muro a 3. La difesa di Grebennikov è scolastica e poi Eliane, money out su Ishikawa! Fa tutto Eliane, difese, attacchi, Grebennikov lo aiuta ogni tanto, ma intanto Roberto Piazza è costretto al time out. Adesso si è sbloccato, 19-18 Modena, un 7-2 per Milano. Daniele Lavia al servizio, prima linea con Eliane, Petric e Stankovic. Bella battuta da parte della via su Marr che però riceve bene, palla dietro ancora per Patry, toccato, questa volta difeso da Eliane. Ricostruzione, palla dietro, in due per Eliane, la palla schizza via sul tocco in difesa di Sbertoli. Magr di Ishikawa, ingiocabile, free ball per Modena. Grebennikov che dice Eliane, cavati dalle scatole e poi gli dà la possibilità di attaccare. 20-18 Modena torna a più due, punto più importante della partita sin qua.